Paolo Brut Jr. Bexcoach Secondo i dati ISTAT del 2015, oltre 23 milioni di persone sono sedentari in Italia. 4 persone su 10 sono fuori forma, di cui 3 in sovrappeso e 1 in uno stato di obesità. I cambiamenti che sono stati apportati dovuti alle ultime situazioni del periodo stanno apportando delle conseguenze a livello psicoemozionale, aumento degli stati d'ansia, degli stati depressivi, insonnia, aumento dello stress, eccetera, eccetera. Le persone sedentari e stressate sono come questo bicchiere, il contenuto di questo bicchiere è scuro, senza vita, senza colori. Ma esiste un modo per ripulire il bicchiere, lo faremo insieme, per questo voglio invitarti alla nostra Bex Challenge, la settimana Detox. Cos'è la settimana Detox? Sono 7 giorni di pratiche costanti, consigli, allenamenti e pratiche per aiutarti a purificare, disintossicare il tuo corpo e la tua mente. Ecco la nostra settimana Detox. Ogni giorno, allenamenti, pratiche di rilassamento, pratiche di focalizzazione mentale. Consigli, costanza, forza di volontà, ripetizione costante. La nostra settimana Detox è composta da 7 giorni. Sotto la mia guida avrai tutti i consigli, video, diretta live sui nostri canali social. Avrai obiettivi da raggiungere e tutto questo per seguirci, per entrare a far parte della nostra settimana Detox. Basta seguirci nei nostri canali YouTube, Instagram e Facebook. E lì potrai seguire ogni singolo giorno, tappa per tappa, ogni passo che faremo fin dal primo all'ultimo giorno per ripulire il nostro bicchiere. Sotto la mia guida avrai tutti i consigli. Grazie. 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 Grazie a tutti